un ciao a tutti da paolo e benvenuti ancora una volta a un nuovo episodio di italiano in podcast un po' a ritardo sono mancato per qualche giorno ho saltato l'appuntamento di venerdì la settimana scorsa è stata abbastanza regolare con tre episodi lunedì martedì e giovedì ma venerdì qualcosa non è andato come nei primi giorni e quindi ho mancato al nostro appuntamento con l'italiano sono pronto a ripartire oggi in questo lunedì 23 gennaio e con l'episodio 619 quindi benvenuti all'episodio numero 619 ripartiamo ricominciamo facciamo finta che tutto sia andato bene e che scusate qualche rumore facciamo finta che tutto sia andato bene dimentichiamoci l'episodio in meno vi prego ma ripartiamo con la settimana e ricominciamo a fare il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto anche oggi vi faccio un po di compagnia vi racconto quello che è accaduto in questi giorni e spero di aiutarvi con questo a migliorare le vostre capacità con la lingua italiana in questi giorni in realtà è accaduto poco non posso dire che ci siano stati grandi eventi ma tutto è buono per fare la nostra pratica di ascolto e di comprensione con italiano in podcast questa settimana ci riproviamo vediamo se riusciamo a completare una settimana con il programma esatto di quattro episodi per per settimana anche se devo dire che guardando un po gli ascolti mi rendo conto che in realtà molti di voi sono ancora in ritardo con l'ascolto di tutti gli episodi quindi i quattro sono i quattro episodi a settimana sono forse ancora un numero più che sufficiente e già tre sono un buon un buon risultato ma le promesse sono promesse io ho già ridotto di due episodi il podcast in questi ultimi due anni quindi non voglio scendere sotto i quattro episodi ancora per molto tempo certamente nel futuro nei prossimi mesi se sarò costretto a fare delle scelte con il mio tempo fare quattro episodi potrebbe essere un problema ma certamente per ora questo problema non c'è c'è solo quando sono un po stanco e infatti possiamo dire che questa potrebbe essere una regola quando manca un episodio quando non mi ascoltate quando non vedete la pubblicazione di una nuova puntata molto probabilmente è perché quel giorno era un po troppo stanco e ho deciso di saltare di riposare un po di più perdonatemi per questo ma a volte può accadere quindi anche oggi per esempio non sono stanchissimo non ho saltato l'episodio non è troppo tardi sono circa le 11 e 10 del 23 gennaio e fra poco avrò anche un'ultima lezione l'ultima lezione della giornata che a lunedì è sempre con Josh che spero mi aspetterà mi permetterà di finire questo episodio non sono troppo stanco infatti farò anche una lezione ma certamente non posso dire di essere al cento per cento come all'inizio della settimana scorsa vi ricordate forse che lunedì scorso è stato uno dei migliori giorni di produttività che ho avuto da quando da quando faccio questo podcast infatti ero molto molto contento lo sono anche oggi ma c'è una differenza c'è una bassa energia negli ultimi tre giorni questa bassa energia passerà arriverà di nuovo molta energia ho cercato anche di pensare ai motivi di questa di questa mancanza di energie degli ultimi giorni al contrario della grande carica che ho avuto fino certamente a giovedì in effetti proprio ripensandoci negli ultimi minuti mi è venuto in mente che questo può essere iniziato proprio giovedì notte perché mi sono alzato durante la notte ho avuto qualche problema in effetti ho dormito male quella notte non non avevo ricordato questo dettaglio fino a poco fa ma adesso che ci penso potrei dire che l'inizio è stato un po' questo l'inizio di questa mancanza di energie è una buona considerazione una cosa che mi è tornata alla mente e che può essermi utile ma comunque questa sera non sono troppo stanco ma non farò un podcast troppo lungo solo un saluto per ripartire con la settimana e per non lasciare un buco troppo grande dall'ultimo episodio quindi vi parlerò di venerdì non vi parlo di giovedì notte perché come ho detto è stata un po' agitata venerdì è stata un'ottima giornata in realtà ma alla fine ero un po' distrutto anzi molto ho fatto molte lezioni sei lezioni o addirittura sette forse credo sì e nei buchi e negli spazi liberi sono stato praticamente tutto il giorno a sistemare e a rimettere in ordine la mia casa che aveva bisogno di un po' di pulizie e anche un po' di di ordine appunto quindi il brutto tempo mi ha impedito di uscire per tutto il giorno perché da giorni ormai insomma il tempo è pessimo c'è la pioggia ma c'è anche il freddo e infatti le montagne dietro la mia casa sono praticamente piene di neve fino a un'altitudine anche molto bassa ho detto a Jay per scherzare che sembrano un pandoro e in effetti è vero le queste montagne con la neve sopra mi ricordano davvero un buon pandoro mi fanno venire voglia di mangiare dolci ma comunque quindi da venerdì in effetti tutto il giorno di venerdì scusate non c'è stato altro da fare che stare in casa e impegnare il tempo con le le lezioni e il lavoro non ho fatto praticamente nulla per l'espec italiano ma ho dato una bella sistemata e una bella pulita alla mia al mio appartamento e anche questo è lavoro quindi non ho perso tempo però alla fine della giornata ero molto stanco e ho deciso di saltare il podcast con la speranza di fare un nuovo episodio sabato o domenica poi non è andata così perché questa situazione di stanchezza è andata avanti e in effetti continua anche un po' fino oggi quindi ho saltato anche gli altri giorni ho deciso di recuperare un po' sabato mattina non era iniziato affatto male con un po' di raffreddore forse la mia voce si sente ancora un po' raffreddata ma comunque ho avuto una bella chiacchierata con jonathan come ogni sabato e poi dopo questo impegno ho anche avuto una una riunione con gli altri proprietari degli appartamenti del mio palazzo insieme a un ingegnere che si occuperà delle nostre pratiche e dei nostri progetti di fare questi famosi lavori di cui vi parlo grazie a degli aiuti del governo che ancora ci sono abbiamo fatto questa chiacchierata questo colloquio deciso un po' la il calendario ciò che dobbiamo fare quindi nelle prossime settimane l'ingegnere si preoccuperà di sistemare progetti e tutti i documenti necessari a fare questa richiesta e sperare che la richiesta venga accettata e che possiamo trovare anche una banca che finanzia queste questi lavori questo incontro è andato avanti fino all'ora di pranzo poi ero già stanco all'ora di pranzo del sabato ma ho mangiato ho fatto anche una breve passeggiata perché sabato è stato un po meglio c'è stata qualche ora di tranquillità con il tempo ma nel pomeriggio ho sentito davvero la necessità di riposare e infatti ho fatto un bel pisolino abbastanza lungo più di un'ora ma in realtà sono stato un po' rilassato un po' sdraiato nel letto fino ad arrivare all'ora della dell'unica lezione del pomeriggio con michael che è molto simpatico e molto divertente con lui abbiamo fatto una chiacchierata un po' più lunga del previsto e quando abbiamo finito era ormai quasi ora di cena ma ma ancora il tempo non era ideale per uscire ancora per uscire di nuovo scusate quindi ho semplicemente deciso di restare a casa e riposarmi ancora un po' mangiare qualcosa di molto semplice e infine infilare il mio bel pigiama così è andata e mettermi a letto perché un po' ero raffreddato un po' ero stanco ho deciso di semplicemente guardare un film e poi e poi addormentarmi e sperare in una domenica migliore domenica è stato c'è stato un tempo migliore questo è vero almeno nella prima parte della giornata infatti sono anche uscito a fare una passeggiata al mattino e sono uscito anche a fare una passeggiata più o meno all'ora di pranzo e in tutto questo c'è stata una lezione al mattino e due lezioni al al pomeriggio nell'ora più vicina alla sera diciamo anzi due lezioni la sera prima di cena e tra le altre cose anche il pranzo con mia madre con delle ottime lasagne erano davvero buonissime da un po che non le faceva e ovviamente io ne ho mangiate troppe sia a pranzo che a cena fantastiche ma comunque per ricompensare il regalo delle lasagne a mia madre ho comprato dei dolci e abbiamo fatto un'eccezione alla regola abbiamo fatto uno strappo così si dice quando si fa un'eccezione si può dire fare uno strappo alla regola e abbiamo dimenticato per un giorno la sua dieta poverissima di zuccheri e poverissima di dolci quindi ci siamo gustati anche un buon dolce insieme al caffè domenica quindi anche andata via con queste poche lezioni tre lezioni qualche passeggiata in più ma ancora un'energia molto bassa e potrebbe essere stata davvero questa notte di giovedì che mi ha causato qualche problema mi ha tolto un po di equilibrio psicofisico una parola un po difficile ma lo recupereremo presto domenica sera anche ho rinunciato all'idea di registrare il podcast volevo farlo ma a un certo punto sono stato come dire è arrivato è arrivata la voglia di sdraiarmi e rilassarmi ancora una volta e ho deciso di non forzarmi di assecondare questa necessità e questa voglia di riposare un po di più e con questo quindi siamo arrivati al lunedì a oggi a questo 23 gennaio questo 23 gennaio che non è andato male affatto è stato un giorno abbastanza produttivo come al mio solito nella prima parte della giornata non ho avuto lezioni fino alle 4 più o meno alle 4 del pomeriggio è un giorno di digiuno quindi un giorno senza cibo da questo punto di vista tutto benissimo il digiuno è andato avanti senza nessun problema ormai posso dire che è una passeggiata per me stare 24 ore senza cibo un'abitudine talmente normale che davvero non faccio più nessuna fatica è vero che non corro da un po di tempo quando faccio il digiuno ma presto tornerò a farlo tornerò a fare anche questo forse in questi giorni quello che manca che mi ha tolto un po di energie è proprio la mancanza di attività fisica fuori la mancanza di sport la mancanza di sole la mia meteo ropatia l'ho detto bene questa volta meteo ropatie e quindi tutto questo insieme forse ha fatto ha tolto un po di quelle energie enormi che sentivo all'inizio della settimana scorsa ma sono molto fiducioso è solo un momento molto presto passerà quindi oggi è andata molto bene fino alle al pomeriggio ho lavorato a alcuni contenuti per l'espicchitaliano in particolare a questo famoso articolo sulla casa di giulietta che domani pubblicherò oggi ho completato tutto mi è costato altre tre ore e mezza quattro ore in realtà di lavoro sì anche un po di più di quattro in realtà perché ho inserito tutti i link ho inserito delle foto ho creato i due esercizi ho utilizzato un nuovo modello di pagina tutto questo mi ha portato via tanto tempo però mi ha dato una buona soddisfazione spero che lo leggerete domani lo pubblicherò lo pubblicherò anche sui social quindi vi darò queste notizie vi darò la notizia quando sarà disponibile l'articolo spero che questo lavoro sia utile interessante per me lo è stato perché è un buon articolo e anche perché ho cambiato ancora una volta il modello della pagina per la pubblicazione di articoli ed esercizi spero che lo leggiate in tanti e ci saranno altri articoli e altri esercizi spero presto forse già questa settimana alla fine di questa settimana per ora abbiamo cruciverba di domenica questo è stato un altro lavoro che ho fatto domenica ho pubblicato un altro cruciverba e domani riprendiamo con questo articolo dopo una pausa era dall'articolo sull'arena di verona che non pubblicavo un nuovo contenuto come questo ricominciamo quindi e ho altri due articoli o almeno due testi da pubblicare ancora nelle prossime settimane beh questa la giornata fino al pomeriggio completamente dedicata a questo lavoro anche oggi il tempo molto brutto molto piovoso la neve sulle montagne insomma tempo per stare dentro e dedicarmi alle mie lezioni ne ho fatte tre fino all'ora di cena poi più o meno alle otto e trenta ho finito il mio digiuno una piccola pausa per cenare quattro chiacchiere con jay e adesso il podcast prima di parlare con josh che mi aspetta fra pochi minuti questo riassunto di questi giorni di assenza mi scuso ancora una volta per non essere stato di parola per aver perso un appuntamento ma mi rifarò mi farò perdonare non vi preoccupate domani ho in programma una visita medica alle 9 di mattina in un ospedale vicino alla mia città non troppo lontano vi spiegherò meglio nel prossimo episodio come è andata e che tipo di visita medica ho fatto per oggi vi voglio dare solo qualche notizia la prima ma beh non c'è bisogno di dirlo l'ho già detto mille volte brutto tempo da tutte le parti tutta l'italia è sotto la neve molte scuole sono chiuse molti molte regioni hanno un'allerta per il mal tempo e anche il mare molto agitato insomma non è un bel periodo per stare in italia dicono che qui ci sia sempre il sole ma non è così in questo periodo non è non è affatto vero anzi siamo in inverno fa freddo c'è la neve e al mare non si può andare l'altra notizia riguarda i benzinai i distributori di benzina hanno confermato lo sciopero da domani da domani ci saranno 48 ore 48 ore di sciopero dei benzinai perché hanno litigato con il governo ecco perché speriamo che facciano la pace e che permettano a tutti di continuare a svolgere le loro attività sono cose che succedono niente di straordinario gli italiani credo si siano già messi al sicuro praticamente tutti hanno fatto rifornimento di benzina quindi sarà uno sciopero un po lungo ma speriamo senza troppi troppe difficoltà una notizia che voglio dare riguarda anche la famosa bidella pendolare di cui vi ho parlato giovedì questa giovane donna che dice di aver di fare avanti indietro da napoli a milano per conservare il suo posto in una scuola e perché in effetti gli affitti a milano sono praticamente impossibili per uno stipendio così basso bene sembra proprio che questa questione abbia creato moltissime discussioni sulla rete sui social c'è una grandissima discussione un paese diviso in due l'italia è divisa in due tra chi sostiene che questa sia una bufala c'è una notizia falsa che questa storia sia stata inventata questa ragazza questa giovane donna abbia esagerato insieme al giornalista della sua intervista quindi forse qualcuno sostiene che non è possibile fare questo tipo di viaggio ogni giorno tutto il mese con sole 400 euro al mese quindi ci sono persone che sostengono che questa storia sia stata un poco esagerata e invece altre persone che sono assolutamente dalla parte di giuseppina e sostengono che sia tutto vero è uno scontro incredibile sui social una guerra all'ultimo tweet come si potrebbe dire tra chi crede e chi non crede a questa storia nei prossimi giorni vi farò sapere di più ultima notizia riguarda lo sport perché in questi giorni è arrivata questa incredibile notizia dalla giustizia sportiva la juventus che è la squadra più popolare d'italia forse è rimasta coinvolta insieme ad altre squadre di serie a della serie a italiana in uno scandalo di tipo finanziario ecco ci sono in questo periodo dei parametri delle come dire delle regole molto severe sul modo in cui le squadre finanziano le loro attività sembra proprio che la juventus e altre squadre abbiano fatto un po qualche trucco abbiano usato qualche piccola scorrettezza o grande non lo so il risultato però che la juventus anche le altre squadre ma la juventus in particolare ha subito una punizione molto forte dalla giustizia sportiva hanno tolto 15 punti alla squadra che ora è a 27 punti dal napoli primo in classifica quindi è retrocessa e scesa di molte posizioni nella classifica di serie a di quest'anno praticamente impossibile pensare di vincere il campionato e con tutti questi problemi chiaramente la società ha molti problemi anche in borsa quindi le azioni della squadra sono diminuite del 5 per cento e sembra proprio che i guai della squadra non siano finiti qui perché chiaramente il futuro è ancora molto incerto dopo questa sentenza molto dura molto punitiva insomma che ha dato una punizione molto forte alla squadra tra l'altro i suoi dirigenti sono stati puniti con la squalifica per molti mesi addirittura anni Agnelli Andrea Agnelli se non sbaglio è il suo nome Andrea e anche altri importanti dirigenti come Nedved sono stati appunto squalificati essere squalificati vuol dire non poter più essere parte della federazione italiana del gioco del calcio quindi non poter più far parte dell'organizzazione quindi non poter avere incarichi all'interno di questa federazione e anche nelle federazioni superiori come quella europea e quella mondiale come la FIFA in pratica non possono più avere ruoli all'interno del gioco del calcio questo per un lungo periodo e quindi certamente il futuro della squadra come dicevo è un po' incerto una notizia di sport importante perché la Juventus come sapete tutti è una delle squadre più importanti in Italia il calcio è lo sport più importante in Italia quindi è una notizia che su tutti i giornali è stata su tutti i giornali e ancora adesso è perché al momento se forse la squadra più importante possiamo dire più amata e più odiata anche ma certamente la squadra con più campionati italiani vinti con più scudetti se vi ricordate la parola scudetto è un sinonimo della vittoria di un campionato si usa per parlare della squadra chi ha vinto il campionato si dice ha vinto lo scudetto beh vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e ovviamente se c'è qualcosa di importante ve lo dirò per ora direi che può bastare così questa era l'ultima notizia intanto cerco la mia frase celebre questo è il rumore nelle mie mani sul computer se lo potete sentire perché riprendo la frase celebre di oggi è una frase di un personaggio importantissimo nella storia italiana e anche mondiale io direi e sto parlando infatti di leonardo da vinci la frase che mi ha colpito oggi riguarda un po anche la mancanza di energie di questi ultimi giorni di cui vi ho parlato bene la frase celebre di leonardo è questa quando lo spirito non collabora con le mani non c'è arte ovviamente lui si riferiva probabilmente alle sue attività molto manuali ma in generale io direi che il senso della frase che quando non c'è armonia dentro di noi in tutte le nostre parti mentali fisiche l'umore l'energia ecco quando non c'è questa armonia è difficile insomma produrre qualcosa di davvero importante certamente in questi giorni ho prodotto lo stesso ma un po di meno e forse proprio non con la con la quantità qualità e con la il piacere di produrre contenuti e cose interessanti ovviamente spero che non sia tutto così terribile che anche questa puntata non sia così terribile è solo un periodo passerà molto presto per ora dovete accontentarvi un po di questo livello che spero sia ancora utile per tutti quanti voi e per oggi direi che possiamo chiudere qui con questa frase celebre di leonardo io vi do vi ringrazio prima di tutto per avermi ascoltato anche oggi per avermi seguito con tanto affetto come sempre aumentate ancora io lo guardo ogni giorno lo vedo ogni giorno e di questo sono molto felice quindi vi ringrazio vi do l'appuntamento a domani con la puntata numero 620 di martedì 24 gennaio vi racconterò di questa visita medica vi farò sapere come è andata vi spiegherò un po meglio per il momento però vado a fare l'unica cosa giusta da fare per recuperare energia per tornare in armonia e fare cose buone vado a riposare quindi come sempre vi saluto e ciao a tutti